Claudio Pieri della Lotto Sport Italia una grande azienda che guarda con grande interesse alle tecnologie ci saranno molti investimenti di qui a breve proprio su questo settore perché senza curare adeguatamente questo settore non si riesce a rimanere al passo con i tempi certamente i nostri prossimi investimenti importanti saranno sicuramente sullo sviluppo del retail dove l'azienda si sta impegnando da alcuni anni con l'aumento dei negozi del numero di negozi sia in Italia che all'estero conseguentemente tutta la rete telematica ovviamente dovrà essere rafforzata e poi l'altra cosa importante è il nostro rafforzamento telematico sempre nei nostri siti esteri in particolare nel Far East dove abbiamo la produzione tipicamente da diversi anni e in Europa dove abbiamo invece prevalentemente la commercializzazione dei nostri prodotti con presenza diretta sui paesi più importanti Un grande assist lo sta dando proprio l'open source per quanto concerne questa argomentazione? Certamente l'open source rappresenta una novità, una potenzialità e in un momento di crisi come questo generale una risorsa sicuramente da non sprecare ma da prendere in seria considerazione l'open source a mio avviso sia anche molto consolidato c'è presenza sul territorio anche di competenze che possono come dire favorire l'inserimento in azienda rispetto magari a qualche anno fa in cui era un po' più avventuroso prendere in carico una qualche soluzione quindi a mio avviso è una soluzione assolutamente degna di nota e che va presa in considerazione e noi lo faremo Claudio Pieri è anche impegnato nel sociale con Informatici Senza Frontiere una onlus che si opera su tutto il livello del territorio mondiale proprio per favorire l'integrazione e per quanto concerne i discorsi informatici ma soprattutto anche di assistenza Sì, noi riteniamo in sintesi che l'informatica che è sempre stata vista almeno noi pensiamo dal punto di vista del business possa anche dare un forte contributo a ridurre il digital divide oggi la democrazia e la libertà passa anche attraverso le tecnologie e questo ne siamo consapevoli tutti i giorni quindi insieme con un gruppo di persone abbiamo fondato questa onlus che ha come obiettivo prevalentemente di ridurre come dicevo il digital divide ma soprattutto di far emergere e aiutare quelle situazioni che già esistono per esempio in Africa negli ospedali dove magari ci sono dei medici ma poi manca tutta la gestione dell'ospedale a questo proposito noi abbiamo già fatto sei ospedali in Africa ne abbiamo fatto anche uno in Afghanistan ma abbiamo fatto anche realizzazioni in Italia all'ospedale di Brescia per i bambini in lungo degenza piuttosto che quello dei Trieste e altre iniziative sono in corso oggi l'associazione che è nata da poco conta 160 iscritti in tutta Italia con delle sezioni presenti appunto in tutta Italia ragazzi giovani che hanno voglia di lavorare che prendono la valigia e che partono in Africa per un'esperienza anche di vita molto importante a mio avviso grazie a tutti